Allora, è sul sostenibile. Cioè, la mia proposta, la mia provocazione è legata al fatto che, avendo partecipato a tutto, quasi tutto l'iter di questa iniziativa, mi sono reso conto, anche parlando con altre persone che, come me, hanno partecipato a questa cosa, che c'è un argomento che ci sta all'interno di ognuna, diciamo, di queste elaborazioni. Però meriterebbe una transazione a sé stante. Mi spiego. Pordenone è una città che ha una caratteristica molto particolare e, dal mio punto di vista, anche invidiabile, anche dal punto di vista di altre persone, ripeto, con le quali abbiamo discusso questa cosa, che è il fatto che ha una dimensione che consente, praticamente, di avere una città che, però, nello stesso tempo, ha una campagna, un territorio che entra ed è in contatto diretto con la città. Cioè, nel senso, noi abbiamo una vivibilità da città, ma abbiamo la possibilità di vivere un ambiente, un territorio agricolo, un territorio naturale, che è ai confini di questa città, in maniera, che preme ai confini di questa città, e quindi è facilmente raggiungibile, in 10-15 minuti si può tranquillamente essere in mezzo alla campagna totale, non solo, ma addirittura, nell'aspetto del noncello, penetra all'interno della città, cioè lo attraversa completamente. Questo elemento, diciamo, di qualità è stato declinato, in maniera molto così, come qualità del vivere. Cioè, c'è una qualità del vivere a Pordenone che è legato, appunto, a un elemento di dimensione della città, e anche a un elemento di densità della città, cioè le caratteristiche di Pordenone, cioè questo avere questi quartieri molto ampi, cioè nel senso, con case, diciamo, con pezzature piuttosto piccole, non con grandi presenze di edifici molto grandi nel suo intorno, cioè nel, chiamiamolo Interland, anche se è un po' difficile parlare Interland a Pordenone, fa sì che sostanzialmente ci sia una qualità del vivere a Pordenone, una possibilità di vivere e di socializzare all'interno della città che è di un livello molto elevato. E quindi è un elemento che andrebbe, a nostro avviso, valorizzato, ma soprattutto andrebbe definito, cioè andrebbe in qualche modo inserito all'interno del piano come un elemento di valore che va tutelato. Come? È una domanda che pongo, cioè nel senso, io mi rendo conto che non è facile tradurre questa cosa, questa qualità, questo valore, in qualcosa di numerico, di tipicizzabile. Però è secondo me uno sforzo che deve essere fatto se si vuole preservare a Pordenone questa capacità e questo valore, questo peso. Il fatto che poi Pordenone sia anche facilmente collegabile con altre zone, per esempio a Venezia, cioè in maniera rapida con il treno, aumenta questo livello di percezione di una città che ha una dimensione a misura d'uomo, insomma, cioè dove ancora oggi si può fare una vita tranquilla e serena e ci sono situazioni ambientali che favoriscono il vivere, diciamo, in maniera equilibrata. Questa è la provocazione che lancio io, a chi raccoglierla vedremo, insomma. Grazie.